salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti bene oggi andiamo a parlare di lei panasonic è una pompa di calore per acqua sanitaria ma non voglio parlarvi di lei come funziona eccetera per questo ho già fatto un video e anche dei consumi ma voglio parlarvi di come impostarla allora in questo caso qua noi abbiamo il modello pav dhv 270 f che cos'è è una pompa di calore sempre per acqua sanitaria da 270 litri che in questo caso riesce a soddisfare tutta la nostra famiglia siamo in cinque quindi di docce ne facciamo o l'impianto fotovoltaico ed è collegata anche l'impianto fotovoltaico e mi permette di risparmiare un bel po' sul riscaldamento che prima usavo a gas e lei a farmi l'acqua calda ma questo ben lo sapete perché se siete arrivati in questo video è perché ce l'avete anche voi e volete capire come impostarla adesso andiamo a vedere un attimo il menu e vediamo come funziona la tastiera che ci permette di regolarla eccoci qua allora una cosa che io ho notato e che è molto fastidiosa è quella che ogni volta che manca la corrente dobbiamo andare ad impostare la data e l'ora siccome ci sono molti sbalzi di corrente ultimamente nella mia zona ogni volta devo andare a vedere che si sia impostata l'ora come si fa dalla schermata che avete visto inizialmente si apre questa schermata qua qui andiamo a regolare il nostro orario e la nostra data con questa manopolina qua andiamo a regolare il giorno in questo caso oggi siamo il 28 gennaio 2024 quindi giriamo la rotellina per andare avanti e indietro con questa qui 2024 gli diamo l'ok premendo qui il centrale l'ora adesso sono le 8 e 42 quindi schiacciamo qua ecco in questo caso io ho sbagliato che come si fa schiaccio il tasto indietro e torno sulla manopola 8 e 24 8 e 42 quindi torno indietro sul 43 2 e gli do l'ok qui abbiamo messo l'ora giusta ok spero che in qualche modo panasonic risolvi questo problema qui mettendo una piccola batteria tampone o qualcosa del genere perché è veramente scocciante questa cosa che ogni volta che manca la corrente dobbiamo andare a rimpostarla bene adesso questa è la nostra schermata che cosa mi dice l'orario la data quante docce posso fare circa quindi cinque docce la sia in manuale e la corrente che abbiamo adesso io gli do se voglio avviare la funzione boost premo il tasto ok in questo caso non mi serve e via e adesso si è accesa perché c'è stato sto diciamo sto sbalzo di tensione che quindi mi porta a tutto ciò bene quindi adesso andiamo menu dal tasto menu che abbiamo qui abbiamo la funzione boost che abbiamo appena detto non serve attivarla modalità è manuale oppure possiamo mettere modalità automatica quindi fa tutto lei io inizialmente l'avevo usato sempre in automatico perché riduce i consumi però parte quando vuole lei e fa quello che vuole lei possiamo mettere anche in automatico automatico li selezionate voi quello che vi piace di più però qui dice cosa dice in automatico a seconda dei consumi lo scaldacqua sedaterà il suo fabbisogno di acqua calda e provvederà ad un miglior rapporto comfort risparmio energetico quindi questo è il massimo del risparmio energetico vado su menu metto allora modalità automatica qua abbiamo modalità senza essi andiamo in ferie informazioni qui andiamo a vedere i consumi elettrici quindi vediamo che questi sono i consumi per quanto riguarda la settimana faccio continua questi sono gli ultimi mesi quindi andiamo a selezionare vedete qua abbiamo un grafico con 80 kilowatt e questi sono i consumi abbiamo avuto a sta per agosto settembre ottobre eccetera e questi sono gli ultimi anni allora adesso qua non si vedono tutti i grafici perché c'è stato un problema alla centrale che abbiamo qui vicino e penso che abbia perso la memoria dei dati poi andiamo sulle impostazioni e qui possiamo mettere data e ora che è quello che abbiamo appena fatto tempo di funzionamento cosa significa? gli diciamo accenditi da mezzanotte fino alle 10 mattina io in questo caso o metto continuamente 24 ore su 24 quindi lei fa tutto lei da sola si accende quando vuole si spegne quando vuole oppure dico no io sono a casa ho il mio impianto fotovoltaico che funziona dalle 9 di mattina alle 6 di sera adesso che è inverno oppure dal 9 di mattina alle 4 del pomeriggio visto che è inverno quindi cosa faccio? metto intervallo dalle 9 torno indietro metto intervallo dalle 9 di mattina ok? lei comunque deve fare minimo 9 ore di lavoro 8 9 di mattina do l'ok una pausa all'uno e un quarto poi visto che magari all'uno e un quarto ho altri prodotti che accendo perché non so il mio piano induzione eccetera vado a togliere e dico io arrivo a casa all'uno e un quarto quindi spegniti riparti alle 13 e 45 e in caso se ti serve funziona fino alle 18 e 45 una volta fatto questo gli do sempre fine e qua mi resta programmato molto semplice quindi menu si va sul menu adesso qua possiamo andare anche sulla lingua e cambiarla e con la rotellina ci giriamo su e giù e se abbiamo sbagliato qualcosa torniamo indietro sempre con questo tasto qua molto semplice bene io adesso lascio tutto in automatico che lei faccia quello che deve fare per avere sempre l'acqua calda bene signori spero di essere stato chiaro e se avete delle domande scrivetemi pure qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al mio canale che è gratuito non costa nulla anzi più vi iscrivete e più riesco a farvi dei video magari interessanti o non come questo e attivate il tasto delle notifiche grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti